Il chatbot è un'assistente digitale, quindi è necessario per garantire ai clienti di alcuni gruppi, per esempio di alcune banche come l'ING, di usufruire di vari servizi che alcuni operatori per il poco tempo a loro disposizione non riescono a fornire. Quindi il chatbot serve per smistare tutte le varie caratteristiche e per fornire un'esperienza adeguata all'utente. Io sono Claudia Cassoni dell'Istituto Scientifico Grassi e sono arrivata con il mio gruppo seconda classificata. Il nome del nostro progetto si chiama Un tuffo nel futuro e in cui noi abbiamo deciso di creare questo chatbot che totalmente automatizzato riesce a risolvere i problemi del suo utente. Io sono Miriam Ramawi, sono arrivata prima classificata con il mio gruppo e arrivo dal Leopoldo Pirelli. Io sono Sofia Mancini, anche io vengo da Leopoldo Pirelli e con il mio gruppo siamo arrivati i terzi classificati. Come i secondi siamo riusciti a creare un chatbot che aiutasse i clienti nelle domande più frequenti. I secondi siamo riusciti a creare un'elf